Ben tornati su Daily Mood, siamo ancora qui alla London Fashion Week per scoprire tutti i trend che andranno per la maggiore per la prossima stagione calda. Vi avevamo già anticipato che il colore più utilizzato sarà il giallo e ce l'ha dimostrato anche Minky, il designer orientale, che ha realizzato una collezione che è un vero e proprio inno alla pop art. Stessa cosa vale per il monospalla, le trasparenze, ma soprattutto le frange, protagoniste indiscusse da ormai moltissime stagioni che continueremo a ritrovare anche per la prossima stagione calda. Ieri è stata la giornata di Victoria Beckham, un debutto molto atteso, quello dell'Expice Girl, che per festeggiare i suoi primi dieci anni come designer ha deciso di volare qui a Londra. Peccato però che la sua collezione non abbia convinto fino in fondo. Applausi a scena aperta invece per Del Poso, la greffa spagnola amatissima qui a Londra. E tra pochissimo toccherà invece a Riccardo Tisci che debutterà per Barberi. Restate collegati con noi per sapere tutto.